ed eccoci qua eccoci qua salve amici cari io sono giusto un momento a faccio palazzo è venuto il ragazzo del pizzaiolo che mi ha portato la margherita che avevo anche se la giornata è griglia è un tempo inclemente ma quando vi dà la margherita è come quando vi dà una bella pena c'è sta sempre sola ecco voi che volete fare queste sono le cose belle della con la pasta avanzata ieri sera a ieri sera facendo il vermicello con i pomodori sono rimasto dopo e ora mi sto facendo la frittatina dopo la pizza consumo pure la frittatina vi confesso che in questo periodo mi è venuta una fama esagerata attacca a pezza a pezza a pezza e non so che cacchio è ma io devo fare per quanto devo fare ma diciamo già buon appetito a voi a me a tutti quanti buoni sempre presente non ha da mai mangiare buoni nel metallo lì lo voglio bene e un'altra dimensione è 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 un'altra dimensione Grazie.